Approvato all'unanimità in terza commissione, il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale che istituisce il premio Peccati Crispolti, intitolato alla memoria delle due impiegate regionali Margherita Peccati e Daniela Crispolti, uccise il 6 marzo 2013 nell'assolvimento del loro lavoro. Ogni anno le due migliori tesi di laurea sulla pubblica amministrazione, prodotte da neolaureati di ogni facoltà e corso di laurea dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Università per stranieri saranno premiate con 6.000 euro ciascuna, comprensivi delle ritenute di legge e di un tirocinio extracurricolare nella pubblica amministrazione che avrà la durata di sei mesi per 30 ore settimanali. L'amministrazione regionale intende così ricordare le qualità professionali, l'impegno e la serietà delle due esemplari lavoratrici e al contempo evidenziare il valore del lavoro pubblico.